Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In modo particolare nelle aree interne, ma il grande numero di persone che in questa attività svolgevano le loro funzioni permetteva anche di avere in determinate aree, diciamo quelle più montane, una grande tutela dell'ambiente, una valorizzazione del passaggio. Non è che adesso non si faccia, c'è anche adesso, ma in modo differente proprio perché venendo a mancare una delle cose più importanti, vale a dire il reddito, chiaramente c'è un abbandono di molti territori, c'è un accorpamento degli stessi terreni e così via. Se partiamo dal passato, l'agricoltura, settore primario, anche per l'occupazione negli anni 50, oggi è un settore sempre primario perché proprio in questa fase molti comprendono quello che è il valore delle produzioni alimentari e dell'autosufficienza alimentare di uno Stato, no? Proprio adesso che abbiamo la guerra, quindi lei capisce bene qual è l'importanza del ruolo, ma non in periodi, sempre, perché è ambiente, è produzione di alimenti, è valorizzazione del passaggio. Ecco, allora la CIA cosa fa sul territorio? Ha supporto, insomma? Ma la CIA è un'organizzazione sindacale professionale, vale a dire svolge azioni di tipo sindacale nei confronti dei vari governi che ci sono, cerca di mettere in luce anche alla pubblica opinione le difficoltà ma anche le eccellenze che i nostri imprenditori producono. Da un punto di vista svolgiamo tutti i servizi che servono a un'impresa agricola e non solo, quindi dagli aspetti fiscali agli aspetti dei piani di sviluppo regionale e quindi l'ammodernamento delle aziende ma anche delle persone, quindi noi seguiamo sia le persone che diciamo le imprese, perché noi non siamo un'organizzazione di imprese solo, siamo un'organizzazione di agricoltori. Esatto, quindi un grosso aiuto per tutte queste aziende che abbiamo nel nostro territorio, nella nostra provincia, nella nostra regione Marche e delle eccellenze molto importanti di prodotti. Ma assolutamente sì, l'importanza nella nostra società è che i corpi intermedi come i nostri, parliamo di associazioni, sono quegli elementi che se ascoltati in modo particolare da chi governa probabilmente ci troveremo molto ma molto meglio, perché di fatto svolgono un equilibrio addirittura tra i diversi interessi dello stesso settore, perché anche nel settore agricolo non è che tutte le aziende hanno gli stessi interessi, alcune volte sono contrastanti, quindi l'azione di questi corpi intermedi è fondamentale. Se veniamo ascoltati sicuramente molte cose riusciremo a risolverlo e devo dire che in questo caso con la regione per esempio in questo ultimo periodo, anche con questo nuovo, con questo cambio di maggioranza che c'è stato, l'ascolto è un elemento importante e tantissime cose vengono fatte a secondo le esigenze che ci sono. Resta sempre la burocrazia che è una cosa che blocca, è difficile, ma dobbiamo riuscirci, se c'è la volontà della politica, dobbiamo riuscirci a ridurla ai minimi termini, perché non è vero che è sempre colpa dell'Europa, non è assolutamente vero. Anche i fondi del PNRR, insomma c'è una grossa progettualità, c'è una grande attenzione al territorio, al verde, all'agricoltura a livello regionale. Sì, noi adesso abbiamo il PNRR, ma abbiamo anche il PSR regionale che dobbiamo costruire, dobbiamo costruire insieme alla regione e questo dobbiamo renderlo effettivamente capace di dare le risposte alle imprese e quindi alle loro esigenze. Spesso e volentieri in questo lungo periodo di tempo che io ho vissuto all'interno di questo settore, ho trovato che le scelte spesso e volentieri si facevano rispetto all'agricoltura che uno vorrebbe, ma quella non è l'agricoltura che esiste. Esatto, ma adesso quali sono le esigenze degli agricoltori oggi? Oggi come oggi noi abbiamo un grosso problema, un grande problema, ancora abbiamo le incertezze delle semine primaverili, per esempio perché i costi di produzione sono saliti alle stelle, iniziando dal gasolio ai concimi che sono triplicati rispetto all'anno scorso e la produzione non sappiamo quella che sarà il valore della produzione, perché non solo abbiamo un problema di clima, perché noi svolgiamo l'attività a cielo aperto e quindi le condizioni atmosferiche sono un elemento fondamentale, ma abbiamo la problematica di come andremmo a vendere il nostro prodotto e a quale prezzo, perché se spesso e volentieri si dice la cerealicoltura, noi siamo una grande regione che produce cereali, siamo la terza regione d'Italia, essendo anche piccola come estensione territoriale, le 50 Euro al quintale sono il prezzo giusto che si dovrebbe pagare a un agricoltore per i costi che ha e non è come viene in qualche modo enunciato che aumenta il pane, aumenta la pasta perché è aumentato il grano, l'aumento del costo del grano su un chilo di pane o su un chilo di pasta incide l'aumento, io parlo solo dell'aumento, 25 centesimi, centesimi, quindi se noi portiamo un prodotto da X Euro a Y Euro l'incidenza della materia prima è solo di 20 centesimi, poi ci saranno tutti gli altri costi che saranno in qualche modo aumentati. Quindi è un'informazione scorretta quella che viene comunicata? Non è un'informazione che fa chiarezza, è vero che c'è stato l'aumento del grano, è vero che il grano però incide rispetto agli aumenti che ci sono stati, 20-25 centesimi sia, e ho esagerato, sia sulla pasta che sul pane. Ecco, il 20 aprile ci sarà una manifestazione in Toscana, che cosa farete? Sì, nel senso che le regioni del centro Italia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio, questo l'abbiamo già svolto nel nord e nel sud altre regioni, adesso lo facciamo nel centro Italia. Vogliamo mettere alla luce le problematiche di cui Pocanzi parlavo e accennavo, vale a dire l'aumento stratosferico dei costi di produzione e l'incertezza del futuro dell'agricoltura. Quindi l'incertezza sui selvatici, sul problema che abbiamo dei selvatici, che vale a dire cinghiali, e va anche detto, anche se è un animale particolarmente protetto, è lupi. Cioè abbiamo la necessità di riportare il territorio ad avere un equilibrio in quello che è la presenza di questi animali selvatici, rispetto anche alla presenza dell'uomo e delle attività produttive che svolge. Perché comunque il dammeggiano… C'è il rischio di azzerare alcune filiere produttive come quelle dei suidi e quindi ci troveremo di fronte a delle situazioni veramente drammatiche, ma dove addirittura se dovessimo avere dei casi il rischio è che non si potrà neanche andare a fare passeggiati in quei luoghi, neanche andare in bicicletta, neanche andare a fare escursioni, cioè verrà tutto bloccato. Quindi l'attenzione massima ci deve essere proprio su questo aspetto. E quindi poi voi sapreste anche consigliare quali azioni bisogna fare? O comunque, non so, lo Stato, le regioni possono fare concretamente delle cose, ma bisogna farle subito? Noi chiederemo su questo al governo, al Presidente del Consiglio, è una proposta che faremo, che riteniamo fondamentale, è quella di nominare i commissari straordinari per la gestione della fauna, i presidenti delle regioni, in modo tale che la regione, che è vicino alle esigenze e conosce il territorio, riesca a svolgere tutte quelle azioni con poteri straordinari per riequilibrare la presenza di questa fauna. Perché al momento non ha questo potere. Assolutamente no. Il problema è che la regione è destinataria della gestione della fauna, ma deve in qualche modo sottostare a tutta una serie di pareri da parte del Ministero dell'Ambiente o da parte del governo che impedisce certe azioni e quindi quelle azioni che si vuole in qualche modo portare a termine per riuscire a ridurre la presenza, alcune volte sono difficoltose da portare avanti. E questo di fatto pregiudica anche nei confronti degli agricoltori, ma anche della pubblica cittadinanza, per esempio l'immagine magari anche della regione stessa, perché ci deve pensare la regione. La regione ci può pensare fino a un certo punto. Quindi la nomina di un commissario straordinario, con poteri straordinari, ci permetterebbe forse, forse, di riportare un equilibrio della presenza della fauna nel nostro territorio. In chiusura, Gianfranco, vorrei parlare con lei di questo fatto che negli ultimi anni, e sicuramente lei l'avrà notato, i tanti giovani si stanno avvicinando al settore dell'agricoltura. Come lo fanno e con quali strumenti riescono poi a portare avanti a creare un'azienda agricola? Allora, diciamo che c'è un interesse di giovani verso il settore agricolo, ma il ricambio generazionale è il problema dei problemi dell'agricoltura. Anche lì. Cioè oggi noi se abbiamo 100 aziende, 90, 93, 94 sono condotti da persone che hanno età dai 50 anni in su, per non dire dai 60 in su. Quindi solo pochi giovani ci sono. È vero che c'è un interesse, ma l'interesse non basta. bisogna creare le condizioni perché i giovani abbiano disponibile la disponibilità del terreno, perché fare un'impresa agricola non è come iniziare a svolgere una professione, per quanto anche importante sia, magari di un'attività che con piccoli investimenti si riesce a lavorare. Occorre tanti investimenti, quindi serve la disponibilità del terreno. E per esempio, ultimamente nella nostra provincia, ma forse anche nella provincia limitrofa, si sta riverificando un percorso come si verificava 25-30 anni fa, cioè l'accapparrarsi della terra e drogare il mercato dell'affitto, non da parte di imprese agricole, ma di altri soggetti che mandano alle stelle il prezzo e che da un punto di vista agricolo non diventa remunerativo, ma lo può diventare per quei soggetti che nulla hanno a che vedere con l'agricoltura, che di fatto creano grandi problemi. Questo bisogna un problema che va risolto, assolutamente. E quanto parliamo poi di giovani che magari si insediano in terreni fertili, come le vallate dei fiumi, sempre verso il mare, è una cosa. Quanto parliamo di giovani che sono nelle aree interne, lì o troviamo delle formule che permettono di dargli una opportunità per potersi creare una famiglia e quindi per vivere dignitosamente. Questo vuol dire alcuni servizi indispensabili. Oggi voglio dire le condizioni che ci sono, vivere nel mondo vuol dire avere la possibilità di accedere a internet, perché questo è un problema che esiste. Vuol dire avere un reddito adeguato che ti permette di... E siccome nell'area interna si svolge un'azione molto più importante, non è che non sia importante anche nelle aree pianeggianti o collinari dei nostri agricoltori, ma nelle aree interne è fondamentale, perché se le aree interne vengono abbandonate, parlo anche delle aree montane, poi il problema sarà per quelli che stanno a valle. Quindi svolgono un'azione fortemente ambientale e quindi bisogna che quanto è l'ambiente un bene comune, il bene comune va riconosciuto da chi? Da tutti noi, quindi dallo Stato. E quindi è ora, ma anche il paesaggio. Il paesaggio che noi vediamo, le Marche bellissime, non è che le Marche sono bellissime non solo nelle città, ma soprattutto nelle campagne sono bellissime, perché la mano dell'agricoltore le modella e fa di queste Marche un territorio eccezionale. Non ci pensiamo mai a questa cosa. Assolutamente. Per quanto vediamo una bella collina, un bel paesaggio, un bel campo a rato, non pensiamo mai che dietro c'è un agricoltore. Un bel campo di girasoli, no? Bello, tutto già. E questo bisogna però, io credo che occorre cambiare la mentalità. Vero. Un'ultima battuta. Noi credo che ci siamo molto, come dire, spostati su una mentalità cittadina. Dobbiamo riprendere la mentalità rurale, perché la mentalità rurale è quella mentalità anche che socialmente è molto importante, perché è molto socializzante, ma soprattutto perché le necessità che ci sono nell'ambiente rurale non sono le stesse che sono in città. E i problemi che vive l'ambiente rurale non li vive la stessa città. Se noi pensiamo al solo aspetto che riguarda gli animali, la presenza della fauna, o alcune idee che vengono fuori rispetto alle tematiche che si incontrano a vivere all'interno delle aree rurali, e parlo degli animali, non ci si rende conto ciò che può produrre una presenza massiccia di questi animali rispetto all'attività che vengono svolte, ma anche al viverci all'interno. Quindi occorre ascoltare molto chi abita in queste aree, capire i loro problemi e dargli soluzioni, non creargli ulteriori problemi. Vero, assolutamente. Gianfranco, è stato veramente interessante questo approfondimento, abbiamo parlato di agricoltura e continueremo a farlo, chiaramente perché è giusto essere informati, è giusto tutelare il nostro ambiente, la nostra agricoltura e i nostri agricoltori. Assolutamente sì, dobbiamo dire che anche in provincia di Pesaro, però i nostri imprenditori hanno fatto dei prodotti eccezionali da un punto di vista della salubrità, della qualità e del costo molto basso rispetto alla qualità che producono. Torneremo a parlare di questo, perché sono tante le cose che dobbiamo parlare riguardo all'agricoltura nel nostro territorio. Grazie mille Gianfranco Santi. Grazie a lei e un saluto a tutti i telespettatori. E buona serata a tutti voi.